Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti qui oggi, siamo qui per dare il benvenuto a Maurizio Sarri, il nostro nuovo tecnico. La sensazione è stata forte, ma non per il quando, per il come, ho visto una società determinatissima, mai visto nei miei 30 anni di pantino una società così determinata a prendere un allenatore, penso sia anche il coronamento di una carriera lunghissima che nell'80% del percorso è stata una carriera anche difficilissima. Mi aspetto di alzarmi la mattina e studiare in modo di vincere le partite, l'europeo è un obiettivo, è un sogno da perseguire con una determinazione feroce. Poi io nel calcio conosco un solo modo di togliere lo scetticismo dalla testa della gente, vincere è convincere. Non penso ci siano altre strade, c'è solo una strada andare in campo, fare un buono spettacolo, divertire e fare risultati. a me basta un paio di scene insieme a loro per capire che loro sono un gruppo forte, un gruppo forte per compattezza, un gruppo forte per determinazione, un gruppo forte per mentalità e questo non mi piace molto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Per le maglie per cui ho lavorato ho dato il mio 110%, e questo lo farò sicuramente anche con questi dolori.